inizia il nostro trekking piano di novacco salve popolo sui monti dell'orso marzo niente riuscimmo a trovare che foresta è uno spettacolo dimmi no non lo devi spegnere tutto panoramico ricordo prima si sale e poi si scende e poi riuscivamo a trovare il sentiero poi l'abbiamo trovato io vi dico di no perché è troppo lontano questo fiume argentino e la parte più selvaggio del parco del pollino c'è pure il campanaro forse stiamo arrivando è una roccia